Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 11 marzo, benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme. C'è grande attesa per le decisioni del Governo, come sapete molto probabilmente, verosimilmente, saranno introdotte delle nuove restrizioni che partiranno probabilmente con la prossima settimana. La decisione sarà presa proprio dal Consiglio dei Ministri tra oggi e domani, il tutto ovviamente per contrastare l'aumento dei contagi da Covid. Questa mattina, come tutti giovedì mattina, abbiamo ospite Vita Trentina per commentare le notizie e questa mattina lo avete già intravisto, c'è Augusto Goio, giornalista di Vita Trentina. Buongiorno Augusto. Buongiorno a te Marco e ai tue spettatori. Soprattutto bentrovato e bentornato a Mattino Insieme. L'abbiamo già fatta vedere questa mattina in anteprima nella nostra rassegna stampa la prima pagina di Vita Trentina. Vedete, avete titolato fine stagione con riferimento alla stagione dello sci, fine stagione, una stagione che però purtroppo non è mai partita. Sì, lo sottolinea anche nella chiacchierata che abbiamo fatto la Presidente degli Impiantisti dell'Associazione Nazionale degli Esercenti di Impianti a Fune, Valeria Ghezzi, che più volte nel corso di quest'anno travagliato ha intervenuto anche sui media nazionali difendendo le ragioni della montagna con gli impianti da sci, lo sci e anche tutto l'indotto e tutto il mondo che ci gira intorno. Una fine stagione, ma una stagione che appunto come dicevi giustamente non è mai partita, è quello che dice anche Valeria Ghezzi. Una non stagione, comunque si è fiduciosi nonostante tutto, anche perché pare che finalmente, anche se le misure poi concrete e nero su bianco non ci sono ancora, come conferma Ghezzi comunque c'è un'attenzione del nuovo governo Draghi anche per il settore della montagna, ristori e incentivi, la proposta di ANEF è quella che ricalca un po' quello che è successo in Francia con gli operatori della montagna che chiedono un ritorno del 70% dei costi che vorrebbe dire un 50% del fatturato di una stagione che appunto comunque non è mai partita. Il pezzo forte, voglio dire così, è quello del nostro Giovanni Melchiori che è salito con il fotografo Gianni Zotta al passo del Tonale, un giro sul campo proprio per vedere con gli operatori in zona com'è il polso della situazione per questa appunto stagione che non è mai partita. Parlano alcuni esercenti del posto, ricordando come giusto un anno fa dall'altra parte del confine, la Lombardiera è zona rossa, in Trentino invece si sciava ancora ma adesso appunto tranne qualche manifestazione di interesse nazionale che hanno trovato appunto i nostri Zotta e Melchiori, è tutto un deserto e si guarda così con trepidazione anche adesso alla stagione estiva e a un'eventuale riapertura degli impianti ormai a luglio. Si spera, si spera veramente tanto per la stagione estiva e non potete non parlare chiaramente questa mattina del viaggio del Papa che è stato seguito dai media di tutto il mondo, è stato veramente un viaggio molto molto significativo e che era anche problematico, mettiamola così. Si è un viaggio che fino all'ultimo si temeva potesse essere nuovamente rimandato, coraggiosamente Papa Francesco si è recato invece in Iraq, è stato nelle zone che abbiamo imparato a conoscere nel periodo più nero di riconquista dell'Isis, del territorio, una realtà quella dell'Iraq significativa proprio per la possibile pacificazione di questo Medio Oriente tormentato, come ricorda il nostro commentatore Gianni Bonvicini che parla di una visita lungimirante di Papa Francesco proprio perché da quelle terre potrebbe venire l'inizio di una pacificazione che avrebbe benefici poi su tutto il Medio Oriente ma in generale sull'intero mondo. È una visita appunto che commenta anche il nostro arcivesco emerito Monsignor Bressan che è rappresentante della conferenza episcopale nella FOXIV che è la federazione degli organismi di cooperazione internazionale di orientamento cattolico e appunto ospitiamo anche queste riflessioni, queste interessanti analisi anche di Monsignor Bressan. Parlate poi di vaccini sia in prima con l'editoriale del direttore Diego Andreat e poi anche all'interno perché lo sappiamo ci sono delle grosse novità proprio per quello che riguarda i vaccini e la somministrazione dei vaccini. Sì, da sabato partirà, è stata annunciata anche la possibilità di prenotare il vaccino per chi ha più di 65 anni. Si userà il vaccino sviluppato in Gran Bretagna di AstraZeneca è una possibilità ulteriore per intervenire su questa possibilità appunto di in qualche modo limitare il contagio che la presenza di varianti rende in qualche modo più preoccupante come ricordavi tu se tendono per il fine settimana delle novità. e quello che ha confermato il Presidente della provincia Fugatti è che comunque eventuali nuove misure avranno effetto a partire dalla prossima settimana. Ma proprio in tema di vaccini c'è anche l'editoriale del nostro direttore Diego Andreat che richiama l'esigenza di offrire una distribuzione equilibrata sia a livello internazionale ma anche a livello locale tenendo presenti anche le categorie più deboli pensiamo in particolare alle persone con disabilità o ai malati di Alzheimer ospitiamo proprio su questo aspetto anche un interessante contributo nella pagina del dialogo. C'è poi un servizio molto interessante sull'oratorio diffuso a San Michele di che cosa parlate? Sì, a un anno dallo scoppio di questa pandemia abbiamo iniziato un viaggio in alcune realtà del nostro territorio di oratori che hanno dovuto anche loro come molte altre realtà reinventarsi completamente e in questo caso questo viaggio parte da San Michele all'Adige dove per iniziativa appunto dell'oratorio sono state avviate una serie di progetti più forse visibile, quello di un orto comunitario che vede impegnati anche i giovani e i ragazzi e ci sono anche molti giovani che hanno risposto all'appello del nostro vescovo Monsignor Tisi a mettersi a disposizione con un'iniziativa chiamata Passi di prossimità, quindi una realtà vivace è la prima tappa di questo viaggio nelle realtà degli oratori che in qualche modo cercano comunque di dare segnali di vivacità e nelle nostre realtà così duramente colpite e in qualche modo un tentativo anche per comunque guardare avanti e soprattutto guardando anche ai giovani C'è poi un articolo che ha veramente suscitato la mia curiosità e che mi pare hai firmato proprio tu Augusto L'insetto è servito, è questo il titolo? Sì, lo spunto viene da un'iniziativa di un gruppo di ricercatori e divulgatori scientifici che si sono messi insieme in un'associazione chiamata Tiramis Science prendendo spunto dal, giocando con le parole con Tiramisu e Scienza appunto offrono ogni due settimane dei gustosi dessert, così li chiamano, delle teglie di Tiramisu che sono delle pillole di informazioni scientifiche e proprio martedì sera c'è stato un curioso appuntamento con due divulgatrici scientifiche che hanno avviato un'attività proprio per promuovere la conoscenza della commestibilità degli insetti se ne parla da tempo, fin dal 2008 la FAO si occupa di questo tema per capire se in qualche modo dagli insetti che peraltro in diverse culture, in diversi popoli sono già un alimento presente sulla tavola e nel piatto potranno in qualche modo dare una maggiore sostenibilità ai nostri consumi c'è necessità, si parla molto di transizione ecologica in questo periodo anche per così reagire alla pandemia c'è necessità, dicevo appunto, di ridurre i consumi di carne che sono davvero insostenibili per l'impatto ambientale il consumo di acqua, di suolo e l'insetto potrebbe rappresentare una valida alternativa ne parliamo appunto in questo articolo con una chiacchierata con Giulia Maffei che è una di queste ricercatrici che ha messo in piedi un'interessante iniziativa che si chiama Entonote C'è stato un grande dibattito in questi ultimi giorni sulla riapertura dell'RSA come ben sappiamo alcune, mi pare 5 RSA, hanno riaperto proprio l'8 marzo e da qui insomma è nato un dibattito molto acceso ed è stata messa in discussione anche la Presidente dell'UPIPA Sì, ne parliamo anche noi, è una vicenda che voglio definire anche in qualche modo dolorosa e che comunque auspichiamo che possa risolversi senza lasciare grossi cocci l'UPIPA appunto è la federazione, l'associazione diciamo che riunisce la grandissima parte delle RSA e delle aziende per gli anziani della nostra provincia c'è stata un'accelerazione da parte della Presidente Parolari con 5 realtà, 5 strutture che hanno deciso di avviare un protocollo dopo che un primo progetto per riaprire appunto alle visite dei familiari agli anziani nelle case di riposo era naufragato visto appunto il ritorno dei contagi e della situazione sanitaria difficile questa accelerazione non è piaciuta ai soci, alla maggior parte dei soci di UPIPA ne è nato un confronto che appunto è ancora in corso lo spieghiamo tra l'altro la presa di posizione di un Presidente di una delle 5 realtà che hanno riaperto e che ha già preannunciato un momentaneo stop l'esigenza è quella sicuramente di rispondere alla solitudine dei nostri anziani nelle case di riposo che pur accuditi va detto in maniera migliore in questa situazione hanno bisogno comunque del contatto, della vicinanza dei loro familiari come contemperare questo con l'esigenza anche di tutela della salute ci sono i vaccini, si è cominciata la vaccinazione che nelle case di riposo è stata portata se non a termine comunque a buon punto e questo appunto porta a una decisione di riaprire si tratta adesso di riaprire comunque nelle condizioni di maggior sicurezza possibile contemperando come dicevo l'esigenza appunto di non isolare i nostri anziani ma di anche permettere queste visite in sicurezza Dalle Valli c'è una notizia mi pare che giunge, che arriva da Pomarolo che anche quella è molto particolare Sì, è un'iniziativa che nasce dal Circolo Pensionati Anziani che ora si chiama Circolo Primavera è un nome che fa ben sperare è un'iniziativa che va nella direzione appunto di lasciare meno sole le persone della comunità soprattutto le persone che il nostro direttore nel suo editoriale chiama gli anziani anziani quelli appunto più duramente colpiti in questa pandemia e di cosa si tratta? A febbraio e adesso ai primi di marzo si è provveduto alla distribuzione di orzetto un piatto locale trentino tipico e forse un po' dimenticato e a una serie di persone della comunità è un modo per manifestare appunto vicinanza e che è stato sicuramente molto apprezzato e ci è sembrato meritasse un'apertura di pagina nella pagina appunto della Vallagarina un'iniziativa che va appunto in questa direzione di vicinanza a chi fa più fatica in questo periodo difficile per tutti Questa settimana c'è anche il giornale dei detenuti Sì, lo ospitiamo trimestralmente in questo periodo è difficile, è impossibile anzi per molti volontari entrare dentro le mura della casa circondariale di Trento però questa voce dei detenuti che esce con il nostro settimanale è comunque riuscita ad essere pubblicata anche questa settimana e riporta in particolare un'iniziativa significativa che viene raccontata dal cappellano del carcere Don Mauro Angeli di cosa si tratta detenuti operatori del carcere raccolgono intenzioni di preghiera e in qualche modo si impegnano a portarla avanti all'interno del carcere quindi anche in accordo con la comunità spirituale di Pian del Lebro vengono raccolte queste intenzioni si può anche scrivere a un indirizzo e-mail lo trovate sul settimanale si chiama scintillechiocciodiocesitn.it lo diciamo anche ai vostri telespettatori è un'iniziativa che è significativa perché in qualche modo porta chi è dentro al carcere a preoccuparsi per chi è all'esterno e non viceversa come siamo di solito abituati a pensare Prima di salutarti Augusto c'è ancora qualcos'altro che dobbiamo sottolineare? Io lascerei ai telespettatori di andare magari in edicola a vedere se possono trovare qualche altro articolo nelle nostre pagine direi che la panoramica che abbiamo fatto è sufficientemente completa ricordo eventualmente un interessante reportage dal confine italiano con la Slovenia da Trieste del nostro illustratore Giorgio Romagnoni che è andato sul campo in preparazione di un lavoro che farà nei prossimi mesi ma non voglio svelare di più Lo leggeremo ovviamente su Vita Trentina Io ringrazio molto Augusto Goyo giornalista di Vita Trentina che è stato nostro ospite questa mattina grazie per essere stato qui a illustrarci e a darci soprattutto come sempre degli spunti molto molto interessanti grazie a tutti Grazie a tutti.